Caro Vincenzo, vista la tematica di oggi che annunciavamo anche all'inizio del nostro programma, quindi l'efficientamento energetico e tutto quello che poi volge al torno, abbiamo una bella sorpresa. La nostra Silvia Corsi ha realizzato un servizio ad hoc. Vediamo. È la nuova parola d'ordine di questi tempi moderni, di grande sensibilità ambientale, efficienza energetica, un parametro da tenere in considerazione quando acquistiamo un immobile o un elettrodomestico. Ma perché? Che cosa hanno in comune i due beni? Detto in termini colloquiali, per funzionare hanno bisogno di un determinato quantitativo di energia e di conseguenza generano una spesa. In un'ottica di risparmio e di riduzione dei consumi, l'efficienza energetica si pone al primo posto tra le priorità per salvare il pianeta, e in particolare lo fa andando ad inserirsi nella grande missione di riqualificazione del patrimonio edilizio europeo con le varie tempistiche, come richiesto dalla direttiva Case Green pubblicata in Gazzetta Ufficiale l'8 maggio di quest'anno. Si parla quindi di efficienza energetica rifacendosi alla capacità di un sistema di ottenere un particolare risultato, con un utilizzo di un quantitativo minore di energia. Questo comporta, grazie ad un impegno minore di risorse e un maggiore risparmio energetico, un rendimento generale migliore delle prestazioni e, perché no, delle spese, quindi più risultati con spese minori. Risparmiare quindi energia e denaro è ciò che ci si augura e per farlo c'è bisogno sia di grandi interventi che di piccoli ritocchi. In molti, ad esempio, hanno cominciato a rinnovare i grandi elettrodomestici con classe energetica A, o ancora a dotarsi di impianti fotovoltaici per rendersi autonomi dalla rete elettrica nazionale. Grazie mille alla nostra Silvia Corsi per questo servizio, anticipando un po' nel dettaglio quello che poi è oggi l'argomento che riguarda sicuramente il settore immobiliare, ma poi anche tantissime altre sfaccettature di questo mondo, perché sappiamo che è fatto di tantissime branche e tantissime tematiche anche complicate. Quindi, come dicevamo, sin dall'inizio tu sei il nostro in qualche modo mediatore, interpreti anche tutto quello che accade e ci riferisci anche con semplicità tutto quello che è anche in continua evoluzione, come ogni settore del nostro Paese e non solo. Direi che possiamo iniziare subito, commentando anche questo servizio, a parlare dell'efficientamento energetico e soprattutto della classe energetica, perché tra le tante domande che ci pongono oggi c'è anche quella della classe energetica G e quindi, diciamo così, spiegare un po' anche le peculiarità di questa classe. Prego, adesso il momento è tutto tuo. Grazie. Allora, l'efficientamento energetico, se ne discute tanto come giustamente diceva il servizio, serve per combattere la crisi climatica e il riscaldamento del pianeta, quindi l'Europa ha cercato di creare un progetto che possa essere utile alla risoluzione di questo grosso problema e una battaglia ambientalista non ideologica ma molto concreta, perché il problema sussiste, fa sempre più caldo e quando ci sono le piogge diventano delle vere e proprie bufere. Questo perché il clima non è più come prima. Detto ciò, da qui entra il discorso del riclassamento energetico. Che cos'è la classe G? La classe G è praticamente un consumo, un consumo energetico annuale, in particolare degli immobili ad uso residenziale. La maggior parte degli immobili residenziali, in buono stato e con qualcosina da ristrutturare, solitamente la maggior parte sono in classe G. La classe G che significa? È un consumo annuale che si cerca ovviamente di diminuire proprio con questo riclassamento energetico, con il discorso appunto dell'energia pulita e tutto quello che abbiamo detto anche attraverso questo splendido servizio della tua collega Silvia. La classe G orientativamente, annualmente, nella media, spende 160 kilowatt l'ora che annualmente, in termini economici, si aggira di media intorno ai 4.000 euro l'anno. Calcoliamo che con un riclassamento energetico e con tutti i discorsi della green economy e così discorrendo, si può arrivare a salire di due classi, questo era anche lo scopo del super bonus tra l'altro, con un grosso risparmio energetico. Basti pensare che il fotovoltaico sopra il tetto, il famoso fotovoltaico che voi vedete sopra i tetti, ne vedete sempre di più col passare del tempo, si risparmia anche dieci volte tanto. Quindi una bolletta invece di 4.000 euro va arrivano a 600 euro l'anno e non è poco perché risparmiamo noi e aiutiamo il clima. Ecco, tra le domande anche dei nostri amici, rifacendoci sempre a quanto esposto dalla nostra collega Silvia nel servizio, c'è anche quella di chiedere, porre l'attenzione sulla scelta, l'importanza della scelta dei pannelli fotovoltaici, perché anche lì insomma c'è una branca a sé, no? Sì, il pannello fotovoltaico ovviamente fa parte di un business di energia pulita che ormai incombe su tutto il pianeta. Basti pensare che il primo paese, primo nei dati per la fabbricazione di fotovoltaico è la Cina. Quindi è tutto il mondo che si orienta in questo. Perché mettere il fotovoltaico? Il fotovoltaico serve per, in un certo senso, il discorso che abbiamo detto prima, perché è un risparmio energetico, è un risparmio energetico fondamentale per tutte le famiglie, soprattutto quelle famiglie che sono in difficoltà. E i bonus di strutturazione, il super bonus anche, andavano in questo senso a cercare di agevolare questo sistema del fotovoltaico. Ci sono ditte che lavorano apposta e quindi ditte specializzate nel fotovoltaico che sono ditte che mettono appunto questo fotovoltaico sui tetti, ma non solo. Poi penso torneremo, credo, sul fotovoltaico perché poi ci sono anche i produttori a terra, nei terreni del fotovoltaico. Ecco, io volevo passare in realtà direttamente a questa tematica, già che ci siamo, perché poi ci sono i nostri amici che ci fanno anche domande di diversa tematica anche oggi. E vi ricordo, potete continuare a scriverci al 320-239-3833 per qualsiasi curiosità. Siamo ancora in tempo per selezionare le domande. E appunto riguarda proprio il terreno da questo punto di vista. Quindi come fare a vendere un terreno per investimento fotovoltaico? Cioè, qual è tutta la procedura, gli step che si devono rispettare? Allora, le aziende che investono sul fotovoltaico sono alla ricerca di terreni. I terreni per mettere fotovoltaici, non so se vi è mai capitato, lo richiede agli spettatori, di vedere dei terreni con dei fotovoltaici praticamente a terra. Poi esiste anche l'agrovoltaico, perché c'è stata una questione per la quale si è discusso molto, per cui i proprietari terrieri non volevano il fotovoltaico, perché si dice rovinino le coltivazioni. Ma io vorrei fare due chiacchiere con chi dice queste sciocchezze. Il fotovoltaico non rovina proprio nulla e invito le associazioni di categoria a fare attenzione a quello che si dice ai propri iscritti, perché poi si deve dire la verità. Il fotovoltaico non rovina nulla. Questo deve essere chiaro. Poi in Italia c'è un discorso ben più ampio. Ci sono 3,5 milioni di ettari di terreni inutilizzati. Quindi possiamo utilizzare qualcosa per il fotovoltaico? Certamente sì. Energia pulita. Permettiamo alle aziende di produrre energia pulita, perché è un investimento per quelle famiglie dove i figli non vogliono fare il lavoro dei padri e dei nonni. E' inutile che alcune associazioni di categoria si avventano contro il fotovoltaico, perché lo fanno con una ideologia che è pari a quello dell'ambientalista estremo. Un conto è l'ambientalismo per il quale siamo tutti favorevoli, un conto è l'ambientalismo estremo, ideologico. Allora, questo è. I figli non vogliono fare più il mestiere dei padri e dei nonni, purtroppo, per fortuna, a seconda delle visioni. Quindi i terreni sono inutilizzati. Se sono inutilizzati, e fateglielo fare questo investimento alle aziende, perché anche per lo scorrimento dell'acqua, l'utilizzo dell'acqua, e quindi la corrente elettrica come noi la conosciamo, se non avessimo scavato, non io, le ditte, se non avessero scavato nelle montagne, non avessero creato le dighe, non avremmo l'acqua nelle case. Quindi questo discorso che l'energia pulita e il fotovoltaico non si può produrre è una sciocchezza, anche perché l'alternativa al fotovoltaico sono tutte quelle industrie per le quali poi i cittadini si spaventano. Detto questo, per il fotovoltaico qual è, perché scusami ma era fondamentale, per il fotovoltaico qual è la procedura? Solitamente se prende un terreno agricolo, le grandi aziende puntano sui terreni da dieci ettari. voi calcolate che dieci ettari sono praticamente, un ettaro sono diecimila metri di terreno, quindi dieci ettari sono centomila metri quadrati di terreno, quindi parliamo di tanto. Le aziende fanno la proposta di comprare il terreno, ma non lo comprano al valore di mercato, ad un prezzo molto più alto, del doppio se non il triplo. Può essere dai 2 euro al metro quadro, fino ai 4-5 euro al metro quadro, questo per i terreni agricoli. Dopodiché fanno una prova per capire se il terreno è idoneo al fotovoltaico, la ditta si deve allacciare alla cabina elettrica, e la cabina elettrica non deve essere distante troppo, perché più è distante la cabina elettrica e più aumentano i costi per la ditta. Dopodiché si fa un'offerta, si arriva al preliminare, e poi si prosegue con i permessi. E qui entriamo nella parte dolente del discorso, perché la burocrazia è infinita, è lunga, quindi per ottenere i permessi di allaccio alla cabina elettrica servono dai 3 ai 6 mesi. Dopodiché un altro iter di almeno un anno e mezzo, se parliamo di Regione Lazio, addirittura in Sicilia ci vogliono almeno 4 anni per ottenere i permessi. Roba da pazzi. Ma io dico alle istituzioni, per favore, magari qualche chiacchierata, lo dico io, non lo dice Radio Roma, non lo dice Giulia, lo dico io, me ne assumo la responsabilità, lo dico con simpatia e rispetto, qualche caffè di meno al transatlantico, e magari più decisi verso determinate decisioni. Non può essere 4 anni in Sicilia per un terreno fotovoltaico. Amici miei, lo dico anche ai politici regionali della Sicilia, vi supplico a mani giunte di rivedere questa cosa. Noi siamo la terra del sole, abbiamo bisogno dell'energia pulita e siamo perfetti per il fotovoltaico. Quindi anche tutta questa battaglia che si fa contro il fotovoltaico è da pazzi e rende l'Italia, rischia di rendere l'Italia in tal senso un paese di serie B. Dovremmo essere i primi, siamo un paese mediterraneo, siamo il paese del sole e andiamo contro il fotovoltaico. Quanto può guadagnare una famiglia con il fotovoltaico? Tantissimo. Certo. Tantissimo. Come minimo andiamo dai 400 ai 500 mila euro. E sono soldi che cambiano la vita. Fino adesso abbiamo avuto modo di parlare del fotovoltaico, dell'efficientamento energetico, abbiamo avuto modo anche di affacciarci al mondo più specifico grazie al servizio della nostra Silvia Corsi. Adesso però c'è un'altra domanda che in qualche modo si distingue da questa tematica. Noi però siamo qui a disposizione per poter rispondere. Qual è l'esposizione migliore per un immobile? Che diciamo che col sole ha comunque molto a che vedere. Sì, sì. Il sole è sempre il tema di oggi. Sì. Allora l'esposizione migliore è certamente un appartamento che sia soleggiato nel giusto perché poi non ci deve essere troppa differenza tra il troppo sole, quindi troppo caldo e l'assenza di sole che poi dovrebbe creare troppo freddo. Ma in realtà quello che fa la differenza di un immobile è la sua costruzione. Cioè, se l'immobile è costruito bene al di là dei termosifoni e dei condizionatori che potete ovviamente avere in casa non ci deve essere umidità e soprattutto ci deve essere un equilibrio tra il periodo estivo dove non deve fare troppo caldo e il periodo invernale non deve fare troppo freddo. Solitamente gli appartamenti che si trovano agli ultimi piani di un edificio solitamente sono caldissimi d'estate, freddi, d'inverno che subiscono una temperatura un po' particolare mentre invece di solito gli appartamenti più caldi sono quelli posizionati al centro dell'edificio perché oltre a riscaldarsi internamente da per conto proprio la temperatura calda degli appartamenti di sotto sale su e quindi in un certo senso riscaldano gli appartamenti. Deve essere soleggiato e quindi vi consiglio di andare a visitare gli immobili in pieno giorno e in piena luce. Questo è un periodo perfetto per andare a visitare gli immobili. Poi noi stiamo facendo anche degli sconti ai nostri clienti quindi vi chiedo di contattarci e approfittare. Mi interessava molto questo discorso della luce perché ovviamente come abbiamo già ribadito anche per le spese è molto molto importante quindi anche per risparmiare non solo per vivere bene perché il sole fa sempre bene. A me personalmente in questo momento mi sta capitando insomma di guardare anche le foto degli annunci e su questo volevo ecco porre un po' l'attenzione e volevo anche il tuo consiglio una tua direttiva un tuo pensiero da questo punto di vista perché nella maggior parte dei casi a parte che gli annunci hanno delle foto che non sono mai chiare non sono mai nitide non è molto comprensibile quello che c'è dentro ma soprattutto nella maggior parte dei casi io vedo annunci con foto in cui le serrande sono chiuse le finestre sono chiuse come fa una persona a vedere il potenziale di una casa quindi mi rivolgo anche a voi che postate gli annunci no? potrebbe andare a vostro discapito perché l'immagine dice molto di più di mille parole quindi è chiaro che poi dobbiamo andare a vederla come ci dice il nostro Vincenzo De Palo dobbiamo chiedere dobbiamo informarci con l'aiuto di professionisti ma dovremmo partire proprio da lì dalla foto la foto è importante perché oltre alla descrizione dell'immobile anche la foto è ciò che rendono appetibile l'immobile a chi lo cerca attraverso la rete gli annunci di internet ma ovviamente anche io rimango basito quando vedo delle foto che sono in penombra che sono con le serrande abbassate di case disordinate perché quando si vende un immobile si deve ordinare l'interno per renderlo più appetibile sono tutte strategie fondamentali è come se noi in trasmissione venissimo invece che vestiti normalmente Giulia è elegantissima io sono vestito normalmente ci vestissimo con due stracci insomma non avrebbe senso allora la stessa cosa sono per gli annunci un po' il bigliettino da visita quindi ma il problema è che ci sono dei colleghi che sono io a volte dico vabbè questa è una foto con la serranda abbassata è tutto buio dico vabbè sarà un privato che poverino ha qualche difficoltà di comprensione pubblicitaria la maggior parte sono agenzie la maggior parte sono agenzie allora ci sono tante agenzie ma le persone competenti sono poche come fare a riconoscerle dovete parlare con gli agenti immobiliari chiaramente per chiudere il discorso delle foto devono essere foto più luminose possibili più belle possibili però non troppo disegnate non troppo modificate con i computer perché poi si ottiene l'effetto contrario una via di mezzo una via di mezzo e questo deve essere fondamentale e poi andate a parlare con i professionisti perché soltanto con un incontro diretto e soltanto parlando con loro ci si può rendere conto di chi hai di fronte una persona non la puoi conoscere in due minuti non la puoi conoscere in due minuti e spesso le persone che già conoscete non sono così bravi come possano sembrare quindi piano piano scavate il metodo pubblicitario scavate la strategia e soprattutto il carattere il modo di fare di chi avete davanti come sempre ottimi consigli quelli di Vincenzo De Palo per il mondo dell'immobiliare spero abbiate preso appunti perché queste sono cose davvero molto importanti e siamo partiti da una cosa veramente fondamentale oggi efficientamento energetico fotovoltaico per poi passare anche all'esposizione alla luce del sole e quindi a incappare ad un'altra problematica che insomma non aiuta per niente le persone che cercano di insomma che cercano casa che sia acquisto che sia affitto insomma fanno veramente tantissima difficoltà e quindi